Questo è il cabbio vinta di verso il nostro torale e il nostro volito Chiedo come un genio in una tappa con tanta attacca Guarda per io 18 metri Adesso vado a tutti Madonna l'ho mangiato l'ultimo attualmente a casa e ho fatto 3 uccisioni Non ti faccio vedere come l'ho lanciato